Ciao a tutti, vediamo in questo video i comportamenti di un uomo che lo fanno frenzonare, cioè diventare amico di una donna. Allora, essere visto da amico da una donna. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, vale il detto, agli amici si chiede, agli amanti si offre. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a un amico chiedi delle cose e a un amante offri delle cose. E le donne lo sanno bene, quando amano qualcuno sono disposte a tutto, a fare di tutto per compiacere questa persona. Non esiste che non hanno tempo, non esiste che hanno altro da fare, no. Lui è la priorità assoluta. E lo stesso discorso può valere, diciamo, per quanto riguarda invece il metterlo nella lista d'attesa, diciamo così. E in questo secondo caso, quest'uomo è considerato un amico, a cui andrai a chiedere dei favori, andrai a chiedere delle cose, andrai a chiedere aiuti, ma poi di fatto non, diciamo, non darai nulla in cambio. Soprattutto se sai che questo è innamorato di te. Quindi se tu sei un uomo e non vuoi finire nella cosiddetta friendzone, nella zona dell'amicizia, devi cambiare i tuoi comportamenti riguardo a una donna. Intanto devi essere molto più irreverente. Essere molto più irreverente cosa vuol dire? Quando interagisci con questo non devi darle tutto questo valore, anzi il valore devi darlo a te. Perché, come dire, io ti faccio un piacere a invitarti magari da qualche parte, ma se tu inizia a tintinnare, a dire, ma non so, vediamo, eccetera, oppure mettere in atto dei comportamenti che siano dei comportamenti non complementari, cioè usciamo ma solo da amici, allora io ti penalizzo fortemente con l'abbandono, con il rifiuto, cioè non mi faccio più sentire da te, non mi importa niente. Piuttosto, come dire, faccio altro, anzi faccio sicuramente altro, e quindi sei tu che ti perdi qualcosa, perché ti perdi e la possibilità è che io ti scorrazzavo in giro, magari ti invitavo, faccio delle cose, ma non lo faccio. O comunque, se l'ho fatto prima, smetto di farlo. Quindi, questa è la cosa principale che bisogna evitare assolutamente di fare, quella di, diciamo, quella di dare, praticamente, senza ricevere nulla in cambio. Quindi, evita di offrire cene, certo, puoi farlo, fai il cavaliere, ne offri una, due, ma se vedi che poi questa va a scrocco, allora che s'arrangi. Cioè, non è, non è indispensabile che tu offri delle cose, delle cene, delle cose, che tu offri delle cose, non è assolutamente indispensabile, anzi, è molto meglio che tu inizi a togliere. Inizia a togliere, inizia a togliere e basta, senza dare niente. In questo modo, perlomeno, non ti mette nella friendzone. Fai vedere che sei un uomo sicuro, fai vedere che non hai bisogno di lei, perché, come dire, non ci sei te, chi se ne frega, ne trovo altre. Questo, diciamo, ti elimina, diciamo così, dall'elenco degli amici. E ti fa vedere anche come un maschio alfa, un maschio sicuro di sé. Un maschio alfa, un maschio dominante, non è che si aggancia a una e lì inizia a pregarla. No, un maschio alfa si propone, ti offre la possibilità, eventualmente, di uscire con lui, di vederlo, ma poi non è che sta lì a pregarti come se ce l'avessi solo te. Quindi, eccessi di romanticismo, anche sono comportamenti che non vanno messi in atto, eccessi di romanticismo, di regali, di cose, non vanno bene, perché ti fanno etichettare come amico, entri subito nella friendzone. Quindi, se vuoi uscire fuori dalla friendzone, devi mettere in atto questi comportamenti, che non vuol dire essere caffone, vuol dire essere gentile. Però, io ti invito una volta, se tu mi dici no e non mi proponi tu qualche altra alternativa, io non ti inviterò mai più. Non mi importa se tu, se mi piace o se non mi piace, ce ne sono altre mille più belle di te. E quindi, vado a trovare un'altra, questo non è un problema. Però, devi farlo, perché altrimenti, se continui a invitare, a invitare, a invitare, senza tenere nulla, non funziona la cosa in questo modo, non dà nessunissimo risultato. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!